Oggi abbiamo l'amico Roberto, il suo primo capo è qui, Franco ha portato le cartucce e le bretelle nuove ma oggi è andata ancora niente, ci sono anch'io che non ho ancora sparato un colpo, Massimo l'ultimo a chiudere la fila, se non ha il cappello è perché comincia a sudare, li cerchiamo dopo